Ciao a tutti e benvenuti nell'angolo creativo di Crocello Sicili. Per chi ama seguire i miei video e non l'ho ancora fatto, può sempre iscriversi, ovviamente, se vi fa piacere. Oggi andremo a realizzare questo scaldacollo, molto carino, ed abbinare al cappello fatto nel video precedente, vi lascerò proprio il link che vi porta a quel video nell'info box. È lavorato a costine, proprio come il cappello, quindi spero che vi piaccia e vi lascio a tutto. Iniziamo lo scaldacollo formando una fascia. Questa fascia deve avere una circonferenza che voi, a seconda delle vostre esigenze, quindi io vi dirò quanto ho fatto la circonferenza di questo scaldacollo, quindi questo è di 52 centimetri, per un'altezza di 19. Quindi questo sarà soggettivo, nel senso che stabilirete voi quanto volete largo lo scaldacollo e quanto lo volete alto. Poi vi dirò che le catenelle di inizio stabiliranno l'altezza del nostro scaldacollo, quindi quando voi andrete a formare le vostre catenelle di avvio, dovete essere consapevoli di quanto alto volete il vostro scaldacollo. Quindi si lavorerà in questo senso, si andrà poi a cucire o con ago e filo o con uncinetto, e ancora qui è tutto da rifinire con delle maglie basse, quindi vi mostrerò come farle, e quindi è molto semplice e continuiamo con il lavoro. Iniziamo col fare un numero di catenelle che abbiano l'altezza dello scaldacollo. Quindi farò un numero di catenelle che equivalgono a 20 cm di altezza. Lavoriamo le catenelle molto morbide e si continua così. Raggiunta la misura che vi occorre, formiamo la prima maglia, quindi filo nell'uncinetto, e anziché lavorare, quindi non lavoriamo nella prima ma nella seconda maglia, e anziché prendere la catenella in questo modo, quindi come si fa normalmente, la prendiamo girando il lavoro, quindi giriamo il lavoro e dietro prendiamo questa solina, e formiamo la prima mezza maglia alta. Sempre girando il lavoro, prendiamo questa solina. Questa volta non lavoriamo la... Allora, vi consiglio innanzitutto di marcare la prima maglia, in questo modo, e si farà adesso una lavorazione un po' diversa rispetto alla prima maglia. La prima maglia la lavoriamo normalmente come una mezza maglia normale, quindi semplicissima. La seconda maglia la lavoriamo in questo modo. Quindi abbiamo lavorato questa maglia, e abbiamo tre asole, come vedete, c'è la prima, la seconda e la terza. Prendiamo quest'ultima asola, quindi senza passare neanche il filo, prendiamo quest'ultima asola, quindi la terza asola, in questo modo, giriamo il lavoro, prendiamo l'asola dietro, passiamo il filo, quindi abbiamo tre asole, filo nell'uncinetto, e chiudiamo con una semplice mezza maglia alta. Nuovamente ci ritroviamo con le tre asole, prendiamo la terza, quindi l'ultima asola, giriamo sempre la nostra catenella in questo modo, e prendiamo l'asola dietro. Prendiamo il filo, ci ritroviamo di nuovo con tre anelli, filo nell'uncinetto, e chiudiamo con una semplice mezza maglia alta. Quindi è, diciamo, un po' più complicato il primo giro, poi vi verrà molto automatico. Quindi, nuovamente, ci ritroviamo con le tre asole, prendiamo questa, prendiamo l'asola dietro, filo, filo, prendiamo il filo, e tiriamo. Nuovamente, prendiamo sempre quest'ultima asola, quindi abbiamo le tre asole, prendiamo quest'ultima, prendiamo l'asola dietro, filo nell'uncinetto, e tiriamo. Nuovamente, uno, asola dietro, e chiudiamo il tutto. Viene un lavoro più compatto, e risulta anche più morbido. Quindi, nuovamente, uno, l'asola dietro. Quindi è molto semplice, dobbiamo arrivare fino alla fine, e poi vi farò vedere, nel secondo giro, che vi verrà molto più semplice. Finita la riga, ci alziamo con una catenella, giriamo il lavoro, e lavoriamo la prima mezza maglia alta, normalmente, come si fa di solito. Quindi, però, anziché prendere il punto, tutto per intero, prendiamo solo l'asola esterna. Quindi, lavoriamo in costa, e formiamo la nostra mezza maglia alta. A questo punto, si sono formate le tre asole, noi prendiamo sempre l'ultima, prendiamo l'asola esterna, del punto sotto, e chiudiamo il tutto. e quindi continuiamo così, formando queste nostre mezze maglie alte, lavorate in questo modo. Quindi, come vedete, è molto semplice. Quindi, prendo l'ultima asola, prendo l'asola del punto sotto, e lavoro la nostra maglia. Viene un lavoro molto bello, molto compatto, quindi, prendo l'ultima asola, prendo l'asola esterna del punto sotto, e chiudo il tutto, con una mezza maglia alta. Nuovamente, uno, due, e chiudo. Uno, due, e chiudo. Quindi, è molto semplice. Come vedete, c'è questa lavorazione, che io la trovo adorabile, molto bella. quindi, si continua in questo modo, e una volta che avete capito il procedimento, vi viene davvero naturale, lavorarlo in questo modo. Quindi, uno, due, e chiudo. Uno, due, e chiudo. Continuo così, fino alla fine. giunti nell'ultima maglia da lavorare, la facciamo insieme, quindi, prendo, l'asola qui su, e dovrei prendere, l'asola esterna, del punto. Però, come vi faccio vedere, si forma questo foro. Quindi, per evitare questo foro, in questo modo, l'ultima maglia, la lavoriamo così. Quindi, normalmente, prendiamo sempre, quest'asola, prendiamo, qui abbiamo il punto per intero, le due asole, quindi, prendiamo sempre l'asola esterna, e in più, andiamo a prendere, l'asola sotto, proprio per non fare formare, quindi, dobbiamo avere sempre tre asole, per non fare formare quel foro. Quindi, chiudiamo in questo modo, e abbiamo una lavorazione, più compatta. compatta. Quindi, ricominciamo sempre in quel modo, quindi, formiamo la catenella, giriamo il lavoro, e la prima maglia, la lavoriamo, normalmente, sempre lavorata, però, in costa. Quindi, per come lavoriamo, di solito, la mezza maglia alta, e poi, invece, continuiamo, lavorandola, in questo modo. quindi, prendo questa asola, prendo l'asola esterna, del punto sotto, e continuo, in questo modo, quindi, è molto, molto semplice. 1, 2, e chiudo. 1, 2, e chiudo. Dopo aver raggiunto la misura giusta del nostro scaldacollo, adesso dobbiamo cucire, quindi possiamo cucire sia con ago e filo, che con l'uncinetto. La parte dritta, la lasciamo all'interno, e lavoriamo dalla parte sul rovescio. Iniziamo a cucire, quindi, dalla parte destra, abbiamo le due asole, prendiamo soltanto quella sopra. Nella parte sinistra, prendiamo l'asola sotto. E iniziamo a cucire in questo modo. Quindi, asola sopra, asola sotto. questo è il risultato della cucitura, questa è la parte che va dietro, e questa è la parte che va sul davanti. Quindi, praticamente, poi non si vedrà più. Continuiamo così, fino alla fine. Quindi, come vedete, ho cucito il tutto, e, praticamente, è una cucitura invisibile. Questa è la parte dietro, e questa è la parte sul davanti, che, praticamente, si trova in questo punto, la cucitura. Quindi, forma proprio il disegno, e quindi, neanche si nota più. Alla fine, ho rifinito, sia nella parte superiore, che nella parte inferiore, con delle semplici maglie basse. Quindi, il lavoro è molto semplice, molto veloce, l'ho abbinato, questo scaldacollo, al cappello, che avevo realizzato precedentemente. Vi lascerò nell'info box, il link che vi porterà a quel tutorial, per chi volesse vederlo. e spero che questo video vi sia piaciuto, e al prossimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!